Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo previsto per giovedì 2 agosto. Insiste sull'Italia l'anticicolone nordafricano, insiste soprattutto sulle regioni centrosetenzionale e marginalmente sulle isole Maggiore e sulla Puglia. Ma in realtà c'è una perturbazione debole atlantica in arrivo dalla Francia che lambirà il nord Italia. Sì, ci saranno rovesce temporale, ma non tale da debellare il caldo. Andiamo a vedere allora il tempo che farà per giovedì 2 agosto. Come potete vedere rovesce temporale sulle Alpi, sempre nelle ore pomeridiane sulle Alpi, qualche rovesce temporale anche sul Piemonte, sulla Lombardia, sull'Emilia occidentale, qualche rovesce temporale anche sulle regioni appenniniche e sulla Calabria. Insiste in realtà però il caldo intenso al centro nord, in particolare sulla Lombardia, sul Piemonte occidentale, l'Emilia, interno della Romagna, Basso Veneto, la Toscana, l'Umbria, la Sardegna, l'Alto Lazio, la Puglia e la Sicilia. Potranno essere raggiunti valori di 37-38 gradi sull'Emilia e sull'interno della Toscana. Termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.